Sì, la posso parlarti un attimo? Dopo. Ciao, Fiamma. Certo che tu sei proprio la ragazza di misterio. È da cui mi sa che lavoriamo insieme e non so ancora niente di te. Se sei fidanzata, dove vivi. Ma io invece so tutto di te. Ah sì? Cinque anni all'antirapine, tre anni sotto copertura. Ma è vero che a furia di fingere di essere un delinquente si diventa come loro? Tutte stronzate. Però, se vuoi, mi possiamo parlare a quattro occhi. Facci via, stasera. Mi lasci lavorare? Sto cercando di capire se quel poliziato di ieri sera era di me. Sì, vabbè, mi possiamo parlare un'altra volta. Eh, beh. Tornare. Sì, vabbè. Sì, vabbè. Tornare. Grazie.